Ciao quelli brandi, qui è di nuovo ora di merenda perché in realtà poco fa ho girato un altro video di patatine questa volta abbiamo le San Carlo Junior con le sorpresine di Beyblade Bust quindi una nuova serie di Beyblade allora, la confezione di patatine cosa ci anticipa? che mangeremo delle patatine molto buone perché con San Carlo è sempre così che il prezzo sta sempre intorno all'euro ma anche che le trottole non saranno il massimo sembrano semplicissime trottole con un adesivo dei personaggi sopra però diamo loro una chance apriamole e vediamo un pochetto come sono quindi apriamo la bustina mangiamo qualcosa ed estraiamo una trottola che, come avevamo intuito dalla foto sul pacchetto, è una trottola non è niente di più, non c'è un meccanismo per farla girare è un po' povera allora la collauderemo anche se è una trottola che non funziona devo ancora vederla ora questa volta abbiamo Wakia il personaggio che abbiamo trovato è Wakia e la sua trottola è viola e basta vediamo un po' come gira gira avremo anche il secondo pacchettino vediamo l'altra trottola poi uh, quanto sono grosse queste patatine questa trottola è adesso potremmo utilizzare queste trottole per sfruttare un bonus è qualcosa che finora non abbiamo avuto a disposizione quindi vedremo le nostre trottole scontrarsi in slow motion sfrutteremo le nuove tecnologie di Casali Brandi allora questa trottola invece è quella di Shoe Shoe che non vuol dire scarpa, ha scritto così, eh, mi raccomando allora vediamo subito come si scontrano le nostre Beyblade di San Carlo Junior beh, allora queste sono le trottoline Beyblade Burst delle patatine San Carlo Junior mmm, piuttosto deludenti sono solo delle trottoline di plastica con una figurina sopra speravo di trovare qualcosa di meglio sono sorpresine da patatine ma a pace costano anche molto poco voi fateci sapere cosa ne pensate qui sotto potete cliccare su mi piace condividere il video se vi è piaciuto iscrivervi al nostro canale seguirci anche su Facebook e su Instagram ciao 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 Grazie a tutti.